Siamo in pieno Medioevo, un'epoca in cui i conclavi possono durare anche anni. È il caso del conclave che elegge dopo oltre 27 mesi un pioeremita, Pietro del Morrone, che prende il nome di Celestino V, non tanto in omaggio ai predecessori di questo nome, che probabilmente nemmeno conosceva, ma per richiamare le realtà celesti con le quali questo monaco si sentiva in contatto. Ma in realtà l'elezione è un'elezione fortemente condizionata dalla politica, dal sovrano Angioino, che impone al nuovo Papa la creazione di ben sette cardinali francesi. Questo e altre vicende molto complicate portano il Papa a ritirarsi di fatto dal pontificato e a rinunciare. Sarà eletto come suo successore Benedetto Caetani, Bonifacio VIII, il grande nemico di Dante, che confinerà il suo predecessore nel castello di Fumone. A torto verrà poi imputato a Bonifacio VIII l'assassinio del suo predecessore. Morto Celestino, un sovrano francese imporrà a un Papa francese, meno di vent'anni più tardi, la canonizzazione. Ma a essere santo, a diventare santo, a essere proclamato santo, non sarà Celestino V, ma Pietro del Morrone.